Buongiorno a padre Giulio Albanese che non ha bisogno di presentazioni, però la presento innanzitutto come missionario e come giornalista. E' proprio da queste due parole che vorrei partire. Perché le confesso, padre Giulio, che io mi sento sempre un po' scomoda quando bisogna parlare degli argomenti e dei temi che riguardano l'Africa. Perché mi sento, o temo la retorica, mi sento a volte anche inadeguata a parlare di tanta sofferenza e di un paese, un continente così anche complesso come quello dell'Africa. Mentre lei lo conosce benissimo e allora le chiedo da missionario e da giornalista qual è il modo giusto di raccontarlo innanzitutto. Credo che il primo sforzo che dovremmo fare è quello di andare al di là del pregiudizio. Inutile nascondercelo, siamo profondamente condizionati dai cosiddetti luoghi comuni. E spesso, me lo lasci dire, con fare altezzoso guardiamo alle Afriche con un atteggiamento, direi, paternalistico. Ci sentiamo sempre comunque benefattori nei confronti di tanta umanità dolente. Ecco, io sono qui a dirvi che le Afriche, uso il plurale perché è un continente che è tre volte l'Europa, le Afriche non sono povere, semmai sono impoverite. E devo dire di più, le Afriche non sanno che farsene della nostra carità pelosa, di quel fare saccente che guarda i poveri dall'alto verso il basso come se noi fossimo il ricco e pulone nei confronti del povero Lazzaro. Piuttosto le Afriche invocano giustizia, il riconoscimento, la dignità. E credo che l'operazione, dunque, prima ancora che essere legata ad azioni di tipo politico, sociale, economico, la vera sfida sia una sfida culturale. Dobbiamo davvero cambiare atteggiamento e fare tesoro di quello che direi è il bagaglio di saperi di questo continente. Mi viene in mente quello che scriveva alcuni anni fa un grande intellettuale senegalese, il compianto Leopold Sedar Senghor, il grande maestro della negritude. Il passato ci ha trovato divisi perché le Afriche sono state terra di conquista, ma dobbiamo avere il coraggio di osare, di incontrarci all'appuntamento del dare e del ricevere perché abbiamo un destino comune. Ecco, io credo che da questo punto di vista le agenzie educative, e quando parlo di agenzie educative parlo soprattutto della famiglia, della scuola, ma anche delle nostre comunità cristiane, ecco, siamo chiamati tutti a una decisa assunzione di responsabilità, perché forse mai come oggi dobbiamo entrare in questo ordine di idee. Dobbiamo contrastare la globalizzazione dell'indifferenza, stigmatizzata in più circostanze da Papa Francesco, soprattutto dobbiamo contrastare la cultura dello scarto. A proposito di globalizzazione dell'indifferenza, Padre Giulio, vorrei fare una riflessione con lei in questo momento. La pandemia ci ha travolto, ha travolto le nostre esistenze a livello globale, però di fatto il nostro sguardo paradossalmente è rimasto nel nostro piccolo mondo. Allora pensiamo anche al dibattito pubblico sui temi quali i vaccini, qui si discute molto appunto delle percentuali dei vaccinati, delle manifestazioni no vax e no green pass, dimenticando spesso come dall'altra parte del mondo, appunto come in Africa una vera campagna di vaccinazione, non può esserci perché manca proprio l'accesso ai vaccini. Ecco, io vorrei ricordare innanzitutto che in Africa noi da tanti anni abbiamo il flagello dell'AIDS, il flagello della tubercolosi, il flagello della malaria. E devo dire che il cammino che è stato fatto in questi anni non è riuscito assolutamente a garantire la sicurezza dal punto di vista appunto della salute per milioni di africani. Il cammino è ancora lungo, anche perché è inutile nasconderselo. Per le compagnie farmaceutiche l'Africa non rappresenta una grande opportunità, perché gli africani, i governi locali, non sono nelle condizioni di pagare. Poi cosa dire delle malattie tropicali neglette, che potrebbero essere affrontate senza grande dispendio di denari se vi fosse la volontà politica di aiutare le popolazioni, in particolare dell'Africa subsahariana. Dunque, come dire, il Covid è l'ultima di una lunga serie. Peraltro ho tralasciato la sciagura di Ebola, che certamente è più circoscritta dal punto di vista dei contagi. Il Covid certamente è l'ultima sorpresa. E ha pesantemente condizionato le Afriche, non solo per quanto concerne il sistema sanitario dei singoli stati. Se non vado errato, al momento attuale, coloro che in Africa hanno ricevuto la seconda dose possono essere più o meno massimo il 3% della popolazione complessiva. Teniamo presente che in Africa vive una popolazione di oltre un miliardo e 300 milioni di persone. Ma il tema è anche un altro. Non ci rendiamo conto dei side effects, degli effetti collaterali della pandemia, soprattutto sull'economia continentale. La verità è che le agenzie di rating, che sono tre, Standard & Poor's, Moody e Fitch, hanno pensato bene, nel corso della pandemia, di declassare le migliori economie africane. Appena era esplosa la pandemia in Africa, hanno declassato le 10 migliori economie africane. Questo naturalmente ha fatto sì che i titoli obbligazionali di questi paesi diventassero spazzatura, carta straccia, il che ha aperto una voragine per quanto concerne il debito. Il debito rappresenta davvero la vexata questio per molti nazioni africane. Quello che devo dire è che spesso chi è nella stanza dei bottoni, a livello internazionale, nei grandi centri di potere, si riempie la bocca di slogan, ma le parole, mi dispiace dirlo, spesso si dissolvono in bolle di sapone. Spesso si dice che dobbiamo aiutare gli africani a casa loro. Ecco, io come missionario sono qui a dire che il consenso delle nazioni spesso, molto spesso, fa l'esatto contrario. Ecco, a proposito di missionari e a proposito anche di situazioni di terre provate e messe in ginocchio anche da conflitti, apriamo un attimo una parentesi sull'Etiopia che da circa un anno è attraversata da un conflitto che ha causato davvero tante vittime e una grave crisi umanitaria. Amnesty International parla di un'ondata di arresti su base etnica. Lo scorso 5 novembre erano stati arrestati 17 missionari salesiani, poi rilasciati. Lei in un'intervista definì i missionari, e immagino si riferisse soprattutto a quelli presenti appunto in queste zone di guerra, caschi blu di Dio. Sì, nel senso che sono una pacifica forza di interposizione tra gli opposti schieramenti. I missionari e le missionarie, non parliamo solo dei maschi ma anche delle donne, è importante sottolinearlo, perché c'è anche una missione femminile, sono davvero una pacifica forza di interposizione e dunque hanno fatto la scelta di stare dalla parte della gente, dalla parte non solo delle comunità cristiane, ma della società civile. I nostri missionari e missionarie spesso sono davvero araldi del Vangelo, nel senso che testimoniano i valori del Regno. Penso alla pace, la giustizia, la solidarietà, il bene comune, il rispetto del creato. E da questo punto di vista, in molte circostanze, si sono rivelate voci scomode le loro. Non fosse altro perché hanno smascherato l'inganno. Ricordiamo che ci sono milioni e milioni di persone che spesso vengono immolate sull'altare dell'egoismo umano in nome del Dio Quattrino. E quando dico Dio Quattrino, è Dio con la D minuscola. La verità è che in Africa noi abbiamo una quantità smisurata di commodity, vale a dire le materie prime, raw materials, e spesso queste guerre che si combattono, si combattono per interessi economici, per il controllo delle risorse minerarie. E mi viene in mente quello che diceva un grande economista francese, morto a Roma nel 1850, Fédéric Bastiat, il quale diceva in un suo trattato sul libero scambio delle merci, dove non passano le merci, passano gli eserciti. Questo a significare che l'aspetto economico spesso condiziona il destino dei popoli. Questo era vero per l'Europa, un tempo, per certi versi lo è ancora oggi, guardando a quello che succede sul versante orientale del vecchio continente, ma direi è vero, verissimo, di grande attualità per le Afriche del nostro tempo. Noi la ringraziamo davvero, Padre Giulio, per averci fatto compagnia in questo spazio, per averci portato le sue importanti riflessioni e considerazioni. Grazie davvero. Grazie a voi.